Qui siamo nella zona serramenti in legno e legno alluminio. Infatti nel corso degli anni i produttori di serramenti in legno si sono evoluti e vanno a produrre un profilo con il guscio esterno in alluminio. E qui lo potete vedere posato. Qui trovate una finestra con la finitura spazzolata, alluminio esterno e legno interno. E qui invece una finestra dove si vede bene che in fase di montaggio sul lato esterno abbiamo l'alluminio. Ovviamente l'alluminio poi sarebbe fatto in tantissimi colori e finiture, anche in effetto legno. Volevo poi farvi vedere questa finitura, porta finestra, si chiama zero. Zero perché sul lato esterno si vede tutto vetro. E sul lato interno invece avete il calore del legno.